Si è insediata in Consiglio regionale la nuova commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni della mafia e della criminalità organizzata in Toscana. Presidente è stata eletta Elena Meini della Lega. Mi aspetto sicuramente di partire con una chiarezza su quella che è stata l'inchiesta che ha travolto purtroppo la nostra regione però non ci fermeremo assolutamente lì perché purtroppo lo abbiamo visto in Toscana la mafia c'è, esiste e il compito della commissione dei consigliari regionali deve essere quello di far sì che si applichino, si studino delle nuove norme per far sì che tutto ciò non si ripeta dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale soprattutto per il periodo di pandemia che stiamo attraversando, la crisi economica che ci ha travolto purtroppo attira anche questa criminalità organizzata. Quindi il nostro compito in primis sarà quello di tutelare il tessuto economico della regione toscana, studiare il mondo imprenditoriale e far sì che ulteriori infiltrazioni mafiose non si ramificano nella nostra regione. Vicepresidente e l'esponente dell'EPD Lucia De Robertis. Che la regione metta in atto quelle procedure, quelle attenzioni, quelle modifiche normative laddove fossero necessarie per evitare che chi, molto più bravo di noi, a volte riesce a infiltrarsi nelle maglie delle leggi, dei regolamenti, delle delibere, delle interpretazioni. Io mi auguro questo, di riuscire attraverso la deduzione, di ascoltare tanti soggetti e di capire se la normativa regionale davvero riesce a mettere in sicurezza questa regione dalle infiltrazioni mafioso, perlomeno fa quello che può fare rispetto alla capacità e alla possibilità che abbiamo noi di normare tutta una serie di attività per evitare che chi vuole fare della regione una terra dove tutto si può fare ha sbagliato regione. L'ufficio di presidenza è stato eletto con un solo voto contrario, quello del Movimento 5 Stelle. Ancora una volta è stato utilizzato il metodo di escludere il Movimento 5 Stelle dalla discussione che è diventata monopolio da una parte della coalizione di maggioranza e dall'altra dalle opposizioni del centro-destra. La cosa curiosa è che l'unico gruppo regionale che sicuramente non ha avuto nessun contatto di nessun tipo anche durante la campagna elettorale con chi in questo momento è oggetto di inchiesta è stato proprio il Movimento 5 Stelle. Quindi probabilmente l'unico che poteva garantire un'assoluta lontananza dai temi molto difficili che saranno trattati in questa commissione alla quale comunque auguro buon lavoro e a cui do subito una prima indicazione secondo me di come si dovrebbe impostare. Cercare di fare un'esatta panoramica della situazione ambientale in Regione Toscana che ha coinvolto non soltanto lo scandalo che è ma anche altre iniziative dove ci siano coinvolgimenti della criminalità organizzata e cercare anche di fotografare quelle che sono le carenze del Consiglio regionale e della Giunta per quanto riguarda la permeabilità a fenomeni di tipo corruttivo ma anche e soprattutto di infiltrazioni di organizzazioni malavitose e connotazioni di carattere mafioso. All'insediamento della commissione anche il presidente dell'Aula Antonio Mazzeo. Questo è un lavoro che dobbiamo mettere a disposizione di tutte le cittadine e di tutti i cittadini della Toscana. Il dato più importante è che non c'è stata differenza tra le forze politiche. Qui va innalzato un muro contro la criminalità organizzata. La Toscana è sempre stata una terra che questo muro l'ha avuto molto alto e gli eventi delle ultime settimane ci fanno preoccupare, ci fanno preoccupare tanto e per questo è necessario che quella commissione vada in profondità, audisca tutti i soggetti che possono essere interessati e costruisca le condizioni perché la Toscana sia sempre più una terra libera dalle infiltrazioni mafiose. Prorogati ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 gli strumenti urbanistici. All'unanimità quindi il Consiglio regionale approva una legge che porta complessivamente a 24 mesi i termini di scadenza per i procedimenti della formazione territoriale urbanistica già avviati il 31 dicembre scorso. La Giunta ha portato un'ulteriore proroga dei termini per la pianificazione cioè per l'adozione e approvazione da parte dei comuni dei piani strutturali e dei piani operativi. Questo perché la pandemia impedisce sostanzialmente di fare la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni alle scelte di pianificazione urbanistica e già quando ero assessore all'urbanistica a Pistoia e poi successivamente non appena insediata la nuova consigliatura si è posto il problema di prorogare appunto questi termini perché la legge 6514 prevede tre anni entro i quali chiudere dall'avvio della procedura sia il piano strutturale che il piano operativo. Con la pandemia ormai sono 18 mesi, 17 mesi, è impossibile rispettare quei termini e quindi siccome la legge prevede delle sanzioni molto pesanti a carico dei comuni in adempienti come per esempio il blocco del rilascio dei permessi a costruire è chiaro che si rischiava ad avere oltre al danno della pandemia e quindi la mancanza della pianificazione la beffa per cui i cittadini e le imprese non avrebbero potuto realizzare gli interventi nemmeno minimali sul proprio patrimonio. Da qui l'esigenza di appunto fare un'ulteriore proroga fino alla fine di questo anno sperando che la pandemia sia finalmente superata e soprattutto una riflessione che ho lanciato sulla legge 6514 ovvero sia se nel terzo millennio sia ancora possibile con gli strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione avere due livelli di pianificazione cioè ps e po oppure sul modello emiliano se non sia migliore tornare ad un unico livello di pianificazione per semplificare la vita ai comuni ma soprattutto ai cittadini e alle imprese. Noi abbiamo votato a favore come lo abbiamo fatto le scorse volte abbiamo detto però chiaramente che c'è un problema serio sulla 65 del 2014 ora non solo come sappiamo e come abbiamo detto più volte è stata modificata 20 volte in sei anni ma abbiamo un problema anche per renderla attiva e fattiva nei tempi perché le amministrazioni comunali che devono seguire comunque quella legge hanno difficoltà hanno difficoltà non solo per il covid e le proroga arrivano per la pandemia ma hanno difficoltà anche perché spesso gli uffici non riescono ad adempiere nei tempi o comunque con il personale che hanno a quello che va fatto e questo bisogna metterlo in conto perché la regione non può far legge poi abbandonare gli enti locali la 65 questo territorio l'ha bloccato dobbiamo anche snellire il sistema e rendere la toscana più attrattiva e più facilmente governabile anche da dagli enti locali secondo noi siamo arrivati al punto che deve essere totalmente riscritta lo diciamo da tempo lo diciamo con forza perché effettivamente anche dopo la pandemia dobbiamo pensare a come risollevare la toscana e la 65 potrebbe essere un grosso ostacolo lo sviluppo della toscana con la legge che abbiamo approvato ieri si unificano le scadenze urbanistiche dovute anche alle proroghe che sono state fatte più volte in virtù della pandemia al 31 di dicembre di questo anno in più si raccoglie anche la sollecitazione di anci che ha chiesto la di prorogare di se di ulteriori sei mesi la il tempo per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici dei comuni si tratta di una misura che è figlia di questo tempo che cerca di agevolare i comuni in difficoltà organizzative per la redazione nove strumenti urbanistici per dare il tempo necessario per farli con l'adeguata cura e con seguendo tutte le procedure previste dalla legge mi sembra che sia una norma importante perché si va incontro alla alle esigenze dei comuni ma soprattutto si garantisce esperitezza e certezza del diritto dell'urbanistica nella nostra regione a maggioranza l'aula approva una proposta di legge presentata dalla commissione cultura che di fatto darà via all'iniziativa del consiglio regionale per i 700 anni dalla morte di dante alleghieri l'atto è stato approvato con un voto favorevole di pd italia vive movimento 5 stelle contrari fratelli d'italia e forza italia astenzione per la lega oggi approviamo la pdl 39 che istituisce il consiglio straordinario dedicato a dante in questo anno di celebrazioni per i 700 anni dalla sua morte e oltre a questo stabilisce una serie di attività promosse dall'ufficio di presidenza insieme all'ufficio di presidenza della quinta commissione per onorare anche dal consiglio regionale questa importante celebrazione devo dire dante ha avuto con firenze un rapporto tormentato ha sofferto è andato a morire fuori dalla toscana allora poterlo ricordare in un momento così significa anche fare i conti con la nostra storia la storia non si cambia ma si studia si approfondisce se ne sottolineano gli elementi di identità e non c'è dubbio che dante alleghieri per i toscani sia un elemento di forte identità con questa iniziativa vorremmo dal consiglio regionale dare alcuni mandare alcuni messaggi e fare anche un piccolo investimento a sostegno delle attività di produzione culturale quindi il consiglio regionale stanzierà 100 mila euro per progetti da far rientrare in questo piccolo calendario di attività promosse dal consiglio stesso l'ho firmata perché dante non rappresenta solo la toscana ma direi che rappresenta l'italia nel mondo 700 anni sono tanti e ancora molto attuale infatti diciamo che stiamo passando dall'inferno al pubblicatorio con quello che ci è successo in quest'ultimo anno e si spera veramente di rivedere le stelle presto come lui è entrato nella selva oscura noi siamo entrati in questo periodo di covid e speriamo presto di uscirne poi per il discorso dei 100 mila euro che hanno stati stanziati è venuto fuori qualche problema perché abbiamo scoperto che già la giunta ne aveva stanziati 250 mila quindi abbiamo chiesto se si poteva in qualche modo eliminare questo punto dalla proposta di legge ci è stato detto di no quindi ci siamo astenuti però per me dante è sempre il sonno poeta noi abbiamo scelto di votare contrario all'istituzione della legge su dante siamo certamente favorevoli a ricordare dante a 700 anni dalla sua morte sappiamo anche che l'infrastruttura più importante questo paese ha l'infrastruttura culturale e su questo dobbiamo puntare però abbiamo anche consapevolezza di cosa stiamo facendo mettere oggi 100 mila euro del consiglio regionale dei soldi dei cittadini per ricordare dante quando la giunta ne ha già messi 200 e quindi sommandoli si arriva a oltre 300 mila euro a noi sembrava eccessivo le famiglie non arrivano a fine mese molte delle nostre aziende stanno chiudendo molte delle attività commerciali non riusciranno a riaprire post pandemia crediamo che le risorse debbano essere non soltanto gestite come il buon padre di famiglia ma anche in maniera molto oculata dante muore nella notte fra il 13 e il 14 di settembre è giusto che il consiglio regionale lo ricordi con una seduta solenne entro il 30 di settembre però ci sembra davvero eccessivo mettere 100 mila euro in sei mesi l'ARPAT agenzia toscana per la protezione ambientale vede approvare il proprio bilancio di esercizio 2019 a maggioranza dal consiglio regionale abbiamo votato contro a un bilancio che ci è sembrato esageratamente edulcorato rispetto a quelle che sono le vere esigenze di ARPAT vere esigenze che abbiamo rappresentato con degli atti quando abbiamo chiesto per quattro volte di potenziare ARPAT di rinforzare dal punto di vista non soltanto economico quindi delle risorse ma soprattutto del personale che sta diminuendo negli anni c'è stato sempre risposto no salvo poi sentir dire in commissione che è stato preso atto della mancanza di personale ecco questo trovo che sia un gesto di irresponsabilità quello che è stato fatto nei compronti del movimento 5 stelle che aveva sollevato il problema già nella precedente legislatura e un'enorme perdita di tempo perché come stiamo vedendo ci stanno accadendo in toscana dei fatti che renderebbero necessario ora una gran quantità di persone e risorse per tutelare cercare di individuare le criticità che purtroppo già ci sono state in questi anni questi anni in cui si è consumata la lenta perdita di risorse umane professionali di ARPAT abbiamo espresso un voto contrario perché chiaramente ARPAT ha bisogno di uno sviluppo diverso lo abbiamo visto soprattutto in questo periodo dove un'indagine che ha riguardato il comprensorio del cuoio e quindi la necessità di avere personale qualificato maggior personale tra l'altro ARPAT ha un numero di operatori che ha un'età molto avanzata diciamo quasi al pensionamento quindi c'è veramente necessità di far funzionare in maniera corretto questo ente. Il voto di Fratelli d'Italia è condizionato sicuramente dalla maniera in cui la regione toscana si accinge a gestire una nuova fase di ARPAT noi chiedevamo un cambio di passo chiedevamo una un cambio anche di struttura di questo importante organo regionale e siamo rimasti basiti da quello che è successo cioè noi siamo andati a nominare ai vertici dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della toscana una persona che attualmente è a processo indagato per aver commesso dei danni ambientali quando era dirigente dell'ambiente al comune di Firenze cioè una persona che sta sostenendo un processo a cui auguriamo di essere assolto e di poter dimostrare la sua estraneità dei fatti ma oggi è un indagato per danni ambientali fatti dal direttore dell'ambiente a Firenze dove viene nominato ai vertici dell'azienda regionale che deve vigilare sui danni ambientali a noi sembra una follia se non è scherzi a parte è un problema serio per la regione toscana Grazie a tutti